Intanto, prego, prego, accomodatevi Ragazzi, qua siamo in informalità assoluta Ve lo dico, ve lo anticipo Prima di qualsiasi cosa Vuoi presentare tu? Faccio io gli onori di casa Faccio io gli onori di casa Marta e Piafrancesco, benvenuti Benvenuti ad Atleta TV Questo è l'Atletalk Un salottino di chiacchiere Intorno allo sport E proprio intorno allo sport Chiariamo chi sono Marta Conean Bravissimo L'ho detto bene? Mamma mia, non l'avrei mai detto Tu come l'avresti pronunciato? Conean Paracula Come lo pronunciano di solito? Conean, concan Non lo leggono neanche Io sono Gezzi che diventa Gezzi, Gezzi, Gezzi Gezzi con la Gei Parente di Dori Gezzi E' lei che ti porta fuori Pierfrancesco Micara Micara era facile Io avrei sbagliato questo Micara Io avrei detto Micara Molti, molti Mi succedeva anche a scuola C'era una professoressa che diceva Micara mi stai a fa scoccia Mi stai a fa scoccia? Sì Che non era scoccia Perché era brutto Se non ho voluto Però sono abituato Succede Quindi Micara E io vedi avrei sbagliato il suo E lo ammetto Giulio Io invece non ne ho sbagliato Vabbè, è chiaro Hai un po' più di ore di volo Sei un po' più vecchio Io ancora devo arrivare ai 30 Tra una settimana Non manca occasione di ricordarlo a tutti Comunque, benvenuti su Atleta TV Siete qua per raccontarci di un bell'evento di sport Che avete organizzato State organizzando Beh, già c'è stata una tappa di tempo Sappiamo che c'è una genealogia Insomma abbastanza Che parte da prima Dalle vostre carriere Dal vostro passato Ma ha un futuro Già proiettato nel prossimo anno Il City Paddle Tour Progetto unionato Sì, sì Beh, ha fatto una tappa Tappa a Rapallo Sì, a giugno La tappa zero Voi l'avete definita Insomma è stata definita anche da Paddle Magazine Che mi era aperto qua Da qualche parte Per farlo vedere Ecco, io partirei proprio da qua Dalla definizione di tappa zero Perché si è partiti da qua? Perché per voi questo è il punto di inizio? E cosa rappresenta il City Paddle Tour Per adesso? Alla tappa zero Allora inizio io Perché poi dopo Tutte le cose tecniche Le lascio a Marta volentieri Ma diciamo tappa zero Perché? Perché intanto Parte ancora da prima Il nostro pensiero Il nostro progetto Cioè nel senso Passione di Paddle Lei da tantissimi anni È un po' una precursora Diciamo di quello che è stato il Paddle Soprattutto nella parte nord D'Italia E tanti progetti ci sono dentro Tutti fatti più o meno Allo stessa maniera Noi volevamo trovare Qualche piccola differenza O divertirci a fare qualcosa Che rispecchiasse il sistema paese Questo è un paese Che vive e dovrà E dobbiamo imparare tutti A farlo vivere Di sport Di cultura E di turismo Quindi per noi Sono tre dati Che hanno Sono stati Diciamo La parte Vincolante Di questo progetto Quindi non è solo sport E non è solo il Paddle Che oggi È senza dubbio Lo sport del momento Quello che ha più appeal Dove tutti possono giocare Dove tutti è Ma c'è un contesto In cui vogliamo farlo girare Per tutto il paese Queste tappe E raccontare Praticamente L'Italia Vista da un punto di vista Diverso Per cui con Attivazioni culturali Sempre diverse Con dei personaggi Sempre diversi Che a volte sono Dei grandi talenti Dello sport Altre volte Saranno Dei grandi talenti Dell'industria Per cui Tutti gli amici Che incontreremo In giro E soprattutto Grandi Eventi culturali Anche No? Abbiamo parlato Di sport Poi arriveremo Al turismo Perché Tra l'altro Il primo evento Culturale È stata La presentazione Del libro Di Silvia Salis Che abbiamo intervistato Esattamente La bambina Più forte del mondo Che ha un tema Diciamo Di fondo Interessantissimo Che è quello Delle donne Di quella Che è l'emancipazione Femminile Che anzi Noi La combattiamo Fortamente Cioè nel senso Anzi Questo è uno sport Che se vogliamo Oggi Più o meno I numeri Dicono Che c'è Il 45 47% Dei giocatori Al femminile La verità È quella Che tra pochissimi anni Succederà Che le donne Saranno al 70% Tra il 65 E il 70% Per cui Non male Diciamo Certo Quindi lei ha detto Turismo Ci ho detto Chi è lei? Non so Cioè Abbiamo detto Turismo Sport Cultura Legacy Territorio Che risposta c'è stata Da questi punti di vista Nella prima tappa Già Da Rapallo No Diciamo Fantastico Nel senso Che come Attivi E il concetto Di territorio Vedi che Subito risponde E quindi La cosa divertente Sa È quella Che noi Presidente di questo Lì abbiamo avuto Purtroppo pochissimo Tempo Per raccontare Quello che stavamo Facendo Perché la delibera Comunale è arrivata 35 giorni Prima dell'evento Quindi abbiamo fatto Tutto un po' di corsa Però la verità È che Questo Diciamo Questo Progetto Nasce Prima che arriva Il CD Paddle Tour Per cui con dei tornei locali Ok Che poi Le finali Semifinali E le finali Vengono giocate Nelle piazze E quindi Alla portata di tutti Dove chiunque Gioca a questo sport Ha la voglia Di anche Di farsi un po' vedere Sì perché giocare in piazza Ad esempio La location di Rapallo È magnifica È stata Quindi già solo il fatto Di poter accedere Alle semifinali E giocarle in campo Era già un privilegio Quindi per descrivere meglio Quello che è successo a Rapallo E che poi si Ripeterà Ripeterà Nelle tappe successive Poi andremo a vedere Quali saranno Se ho capito bene Non ti preoccupare Reggo il tutto Guarda C'è il piede A portanti Ah E Dicevo I circoli quindi Di Rapallo Del territorio Le scuole Si sono Affrontati In tornei Chiamiamoli Interni Di territorio Per poi Mettersi in mostra Chiamiamo Diciamo così Però sfidarsi Nei campi In piazza In un contesto Che non è Tanto quello legato Al circolo Al singolo circolo Ma è quello proprio Del territorio L'esempio di Rapallo Lo vediamo In queste In queste foto È emblematico Perché poi Si gioca In contesti Anche paesaggistici Se vogliamo vedere Se vogliamo dire Che richiamano Al nostro territorio Al nostro turismo E Muzzafiato Cioè comunque Sono Sono esperienze Sono location Stupende E quindi Immagino anche Esperienze Importanti Per chi Le vive Che sono L'esperienza Non sono Professionisti No No Ma poi Invece La cosa bella Che Marta Ha avuto Quest'idea È quella Di comunque Chiunque C'è un momento In cui può giocare Col grande professionista Col grande campione E quindi Quella è una È comunque Un plus Sì Abbiamo avuto Moltissime richieste Anche lì Perché comunque Giocare con i primi Giocatori d'Italia Anche quello È stato per loro Stupendo Perché non hanno mai L'occasione Di poterlo fare Li seguono Sui social Li seguono Nelle riviste Però averli lì E giocare con loro Per un giocatore Di padel Che crede tra l'altro Di essere bravissimo Perché è quello Che credono tu Ma infatti Ecco una domanda Che ho Perché questa padel mania Cioè cos'è Se proprio la La cosa bella Del padel Perché sono tutti Innamorati di questo padel Io non lo so Perché non ho mai Giocare con il giocatore E sei una delle poco Lo devi fare Sono una delle poche Infatti voglio provare Così poi ti darei Una risposta Esatto Perché la dinamicità No è la facilità Cioè è la facilità Nel giocare La prima volta E le prime volte Perché tu entri in campo Se tu proverai Martina Entri in campo E ti diverti subito Con i tuoi amici Sarai già in grado Di giocare E quindi La tua autostima Aumenta Ed esci dal campo Ed è quello Quindi certo Questa è la leva Scatenante Del fatto Ritorno a giocare Poi invece Ovviamente Come su tutto Più si alza poi Il livello Più di fiare Devi essere bravo E la cosa Tu sei Ex-tennista Quindi Chi meglio di te Ci può rispondere A questa domanda Sai I modi di dire Che tu parli In palestra E dico No ma poi È meglio Se non hai mai Giocato a tennis Perché parti da zero È vero o non è vero La sfatiamo o no Beh però è contro direi Perché comunque Chi ha giocato già a tennis È facilitato Perché comunque C'è una racchetta E una pallina Quindi ovviamente Però ha anche Dei meccanismi Che ormai Si sono un po' Incorporati Quindi sono difficili Poi da superare Quindi per noi Tennisti La parete È una cosa Che è difficilissima All'inizio Perché la palla Ti arriva da dietro Ed è comunque in gioco E quindi lì Diventa difficile Però è anche la sfida Per poi iniziare A giocare a padel E lasciare il tennis Certo ok Poi Roma C'è da dire Che è una città Particolarmente Proprio legata Al padel Ci sono più di mille campi Sì mille e quattro cento Adesso abbiamo anche Insomma ospitato Esatto Ospitato anche Il major padel Al foro italico Quindi insomma C'è proprio È la prima città Beh anche una città Che forse Ha tanto già La legacy La tradizione Sì 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 Forse Tantici virgoli Che sono stati proprio Rimessi Per il padel Poi comunque Da voi Qui a Roma Si può giocare anche Adesso iniziano anche A coprire i campi Altrimenti si è sempre Giocato allo scoperto Che è molto più facile Anche per quello Costruire i campi Da noi Dobbiamo assolutamente Coprirli Quindi già gli investimenti Le strutture I permessi È tutto più complicato Quindi il primo sviluppo Iniziale è dovuto Anche a questo Ok E invece come è nata Però l'idea Di mettere insieme Questi quattro aspetti Perché è una cosa Molto interessante E molto bello Perché poi sono aspetti Di una comunità Che alla fine Si aiutano Gli uni con gli altri No? Cioè la cultura Sì Dallo sport E viceversa E voi mi cedete Ma questo è stato Un ricottore di Pierfrancesco Diciamo che ormai Quelle cose lì Si devono parlare Lo vediamo Anche sui grandi eventi Su tutto quello che è È troppo importante Come progetto paese Ripartire da quelle basi là Quindi Diciamo che noi La cosa che sarà Che è molto divertente È quella Che spesso Sono i comuni Che ci chiamano Per cui Andiamo sotto Un profilo Proprio di pubblico E altre volte Sono invece i privati Cioè i privati Che vogliono dare Alla loro città Una possibilità Di farsi vedere E di creare All'interno Una città stessa Un grande evento La cosa bella È che ci abbiamo O ci stanno offrendo Delle piazze incredibili Per cui Quando vai dal nord di Udine A quando vai a Salerno A quando vai a Palermo Stai in dei posti incantevoli Perché questo paese È bello tutto E quindi La verità è che Anche a noi Il giorno che montiamo il campo Siamo i primi a provarlo Perché Effettivamente A provare quelle emozioni Hai delle location Hai delle location incredibili Poi tutto il sistema È bello perché Per esempio Per la cultura Adesso abbiamo presentato un libro Ci abbiamo un po' di progetti Di presentare Una mostra Di un grande fotografo Abbiamo Una parte museale Con delle guide Che ci daranno In alcune città Con dei musei Molto importanti Per cui diciamo C'è la cultura È una parte Assolutamente Molto integrata A questo progetto Che aiuta Secondo me Anche ad espandere La mentalità di molti Che voglio dire Non perché siano limitate Ma c'è chi magari Ama solo lo sport Non ama andare a un museo Oppure c'è chi ama La fotografia Ma non ama Ma lo sport Uno va lì per un motivo E poi magari Scoprano un nuovo mondo E poi senza togliere Il fatto dei bambini Cioè nel senso Noi O le scuole Quando nel momento In cui saranno aperte O altrimenti Tutti quelli che sono I camp delle città Useremo Per cui li inviteremo A partecipare Tutti i bambini Avranno il loro Istruttore federale Per cui In un certo senso Avranno il loro maestro Che li dà O Marta stessa In alcuni casi Visto che Anche lei insegna Anche lì è stata Ha iniziato Diversi anni fa Ha fatto già un tour Che parlava solo di sport E quindi oggi Abbiamo fatto un'evoluzione Di quello Per cui assolutamente Sì È coinciso Poi col periodo Pre-pandemico Però Per questo dico Quindi è proprio L'idea Che neanche è stata portata Da tutto quello Che abbiamo vissuto No 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 È proprio un'idea È proprio Lei è stata l'idea Perché portare il padile A contatto Con la gente Perché Solitamente si va a giocare All'interno di un circolo E quindi devi entrare In un club Che sia grande o piccolo Privato o pubblico Ma comunque ci devi andare Invece qui Siamo proprio in mezzo Alla città In mezzo ai cittadini Chiunque può venire a provare Quindi è proprio La bellezza di questo evento È proprio il fatto Che tutti Lo possono Usufruire E godere Si può dire Che in un certo senso Hai detto tu No Il padel Di solito Bisogna andare Bisogna andare Dentro un circolo Un po' come Con il tennis Sì Quindi Dà l'idea Di qualcosa Di sempre un po' Elitario No Vogliamo dirla così Mentre qua Si fa l'operazione Opposta Quindi ci si avvicina Alla piazza Alla gente Infatti timidamente Tanti arrivavano Posso provarlo Ma si può Cosa devo pagare Nulla Cioè Quindi già solo il fatto Di porsi così E anche i bambini Entravano E provano Cioè È bello per quello Perché è uno stimolo in più Oggi come oggi Puoi stare vicino ai ragazzi Che tante volte Di sport non ne fanno No infatti Hanno l'occasione poi Di provarlo Ecco Questo padel Però di cui abbiamo detto Che è straamato Io invece Non lo vedo molto praticato Dai bambini Che risposta C'è dai bambini invece? È ottima Ottima Perché poi Noi abbiamo anche Le racchette dei bimbi E quindi comunque Per loro è tutto più facile Le palline sono un po' più Sono depressurizzate Quindi è facile Quindi non entrano In un campo grande Sono più piccole Quindi come nel tennis Arrivi per la prima volta Però magari sei piccolino E vedi un campo molto grande Lì si sentono più raccolti È più facile Quindi riescono meglio Quindi magari è anche un modo Per avvicinare poi Le nuove generazioni Che invece ancora Sono un po' più Forse ancora più legate Al tennis Diciamo che come paese Dobbiamo avvicinarli Allo sport Le nuove generazioni in generale Nel senso Siamo molto indietro In quel senso Noi finché possiamo Diamo un piccolo contributo Sicuramente Perché comunque facciamo Vedere voglia di giocare Noi abbiamo visto adesso In questa tappa zero Che alla fine i bambini Stavano lì Tutto il giorno A cercare di entrare in campo Per cui è stato piacevolissimo In questo senso Esatto E poi Lì si avvicina Alla cultura sportiva Ma non solo Perché poi c'è la cultura Altra Non so come definirla Perché Per me sport È già Cultura In qualche modo E poi cultura Del territorio Perché i bambini Che siano di Rapallo Che siano a Rapallo In vacanza In quel momento Hanno l'occasione Di conoscere Un posto Del proprio paese O comunque Dell'Italia Assolutamente Ma poi Diciamo che gratuitamente Fanno delle lezioni In poche parole Per cui c'è È comunque un avviamento Che uno è Abituato A doverlo pagare In questo caso Invece è Il sistema Se vogliamo Evento Che lo gestisce Quindi Noi facciamo farle prove A tutti Con dei professionisti Certo C'è il primo incontro Se andi da lì E poi Esattamente Si segue Esattamente Certo E quindi il futuro Quale sarà Le prossime tappe Ce ne sono alcune Allora guarda Il futuro Sì ce ne sono Perché Grazie al cielo Il progetto Piace molto Ci sono tanti comuni Che ci hanno già Chiesto Di averla data E diciamo Che questo tour Adesso C'ha delle poche tappe Nel 2022 Ma stiamo sviluppando Invece Tutto il contesto Del 2023 Sarà da aprile Fino a ottobre Per cui le riempiremo tutte Ovviamente Ogni weekend Ce n'ha una Perché è Oggettivamente Itinerante Sul serio Non è Ovviamente detto Esatto Per cui sarà Un tour che gira E adesso Il calendario Vero lo tireremo Fuori a febbraio Cioè andremo a fare Una comunicazione Sui calendari Fissati Su E Perché ancora Stiamo un po' spostando Per cui C'è chi preferisce Averla presto Perché semmai Sono un po' più al nord E quindi Non hanno il problema Che su settembre Ottobre Diventa Le temperature Cambiano Le piazze Più difficile Perché comunque Siamo Però insomma Diciamo che Noi 2023 Ad oggi Contiamo tra le 18 Le 20 tappe Vogliamo arrivare Circa a 26 27 28 Ci siamo quasi Ci siamo quasi Però Vedremo Una bellissima Italia Questa è la verità Quindi proprio da nord a sud Tutto Il pericolo completo E un po' di parte centrale Ok Bisognerà seguirlo Indubbiamente Perché a parte che Attendo di vedere Immagini bellissime Quindi secondo te Io aspetto Una tappa Così vado a giocare Su cui un grande campione è Oppure devo arrivare Già preparata Perché me lo metto Nel tappo Preparato Preparato Tu arrivi Arriva già preparata Tu è tutto l'inverno Martina Preparati Non ci far fare Figure barbine Davvero Come il tuo solito Però Ma beh Io sono sportiva Ma certo Fai yoga Sei con la tua mezz'ora D'allenamento Io la mezz'ora Di allenamento La faccio Quando mi pare No beh Ed è sufficiente Sì esatto Ma sono sicuro Che dentro un campo Da padel Saprei dire Direi la tua Saprei dire la mia Esatto Vi aspettiamo Sì assolutamente In dubbio Anche perché Qua diciamo Che poi La cosa bella Devo dire Senza ovviamente Far nomi Per tanti motivi Ma che ci sono Tante aziende Che ormai Sono interessate A questo A questo mondo Ma soprattutto Non solo Ha un fatto Padel Ma un fatto Di progetto Per cui Il fatto di unire L'aspetto culturale L'aspetto di legacy Quei territori L'aspetto Anche per le sponsorizzazioni O per comunque Le aziende Che hanno voglia Di partecipare È interessantissimo No Infatti Non è neanche Non sarebbe Neanche giusto Nascondersi Dietro un dito In questi discorsi Ovviamente Dal punto di vista Di marketing Territoriale O di turismo Eventi del genere Fanno tanto Ma infatti Ti volevo chiedere Le risposte Degli sponsor Le risposte Delle aziende Tu hai parlato Di comuni Di insomma Istituzioni E di aziende Di privati Che vi chiedono Ma come le aziende Reagiscono Perché vogliono Mettere i propri Marchi Su eventi Di questo genere Qual è stata Secondo te La cosa più vincente Per attrarre Grandi marchi Allora Il progetto Di per sé Nel senso Il fatto che si differenzia Da tante cose Che oggi Su questo sport Ci sono in giro Che sono molto Più veloci Se vogliamo Adesso io mi permetto Di dire Molto più superficiali Ok Questa invece È un progetto Vero e proprio Che tocca Delle leve Interessantissime Ripeto Fino all'ossessione Per questo paese Cioè Tocca i tre Punti più importanti Che noi dobbiamo Far conoscere A tutto il mondo E per cui L'Italia Ha senso Per tutti I tre punti di forza Assolutamente Assolutamente Turismo La cultura E lo sport Perché oggi Siamo un paese piccolo Ma vinciamo tanto Cioè abbiamo degli atleti Pazzeschi Che vincono dappertutto In discipline Incredibili Sì Ne abbiamo raccontati Tanti Noi raccontiamo tanti Esatto Di sport Fino a prima L'abbiamo detto Adesso nell'atletica Poi c'è La scherma E poi il calcio Il nuoto La pallavolo Pensate al Paralimpico Il Paralimpico Usiamo delle macchine Da guerra Cioè un paese Che anche in quella disciplina Lì Siamo Tra i più forti Al mondo Assolutamente Il tennis Il padel Perché comunque A livello europeo Sappiamo che ci sono I mostri sacri Della Spagna Dell'Argentina Sono partiti tanto prima Perché sono partiti tanto prima Ma il divario Si sta accorciando Sì Quindi anche la promozione Di sport In cui siamo forti Perché no Sì E poi come dice lui Il territorio Cioè noi abbiamo L'Italia All'Italia Non c'è dubbio Infatti Le piazze Che andiamo a fare Sono straordinarie Certo E da un punto di vista Di uno sponsor Poi c'è anche Un target Più ampio Perché c'è Appunto Prendendo vari punti di vista Cultura Sport Territorio Si prendono Un pubblico più ampio Anche i bambini Sì Sì Beh ma poi c'è Chi ci seguirà Per tutto il tour Che quindi Vuole proprio In un certo senso Farlo diventare Un po' proprio Sarà quasi una fatica Per voi Tutti weekend Ma ce la faremo Sì Noi siamo Sono quelle fatiche Piacevano Assolutamente Diciamo che da lunedì Al giovedì Lavori E poi vai a fare Certo Un po' di attività Sì E poi li vedo abbronzati Sto padel Ambronza pure Sul campo Sono le pareti Ci hanno le pareti Riflettenti Con l'aluminio dentro No beh Qui a Roma Sono anche all'aperto Sì sì Qui a Roma Sono anche all'aperto E penso che Ad oggi In questi giorni Ci lasci 15 litri Di sudore Fai la piaccia Secondo me In un campo di padel Sicuramente Oggi Non è vivibile Probabilmente A Rapallo Sul Lungomare Sul lungomare Si stava un po' meglio Esatto Sì sì Vi auguro di avere Quindi tappe Imminenti Che siano Infatti lui ha detto Che le stanno pianificando Perché penso Stanno studiando Anche quel punto di vista Certo Molto importante Certo Certo Magari in piena estate In montagna Perché ecco Dopo Se no c'è l'estate Quando fai Della primavera Autunno C'hai tre stagioni Pazzesche Devi gestirle Certo Devi pianificare Secondo Quindi diciamolo Anche questo Assolutamente Anche Diciamo il match Con la giusta stagione Ma sì È tutto programmato Tutto studiato A tavolino Tutto studiato A tavolino Per godersi Al meglio Dell'evento E dell'emozione Vi volevo chiedere Invece Proprio dal punto di vista Invece culturale Sappiamo che Da quello sportivo Siete verticali Sul padel Sicuramente Ma dal punto di vista Culturale Quanti spazi Vi siete tenuti aperti Presentazione del libro A rapallo Mi hai detto Di una mostra Fotografica Cosa Dove vorreste arrivare Quale potrebbe essere L'evento culturale Invece da legare Al vostro tour Che vorreste fare Che vorreste avere Ma diciamo Adesso stiamo Lavorando Per la conquista Della biennale Per cui Entrare all'interno Cioè con il nostro Con il nostro evento All'interno Della biennale Per cui usare Una parete da padel Con i quadri Della Usare il loro evento Per stare I quattro giorni Del sito di padel tour All'interno Per cui la tappa di Venezia Ci piacerebbe farla lì Beh questa è una notizia Che ho tirato fuori È stato generoso Mi ha lasciato Mi ha lasciato Io pensavo Sai tipo Il concerto dei manesk Che cosa così Di banale No loro li inviteremo A giocare Semmai Sarebbe bellissimo Sarebbe stupendo A luglio Mi raccomando Ancora una grande Sì beh lì Grande match Sempre tra cultura Musica e cultura E arte E sport Quindi Perché no 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 Infatti Ma la musica pure Per esempio Anche c'ho Un altro amico Che ci verrà a trovare Che farà Un progetto culturale Legato a E Gegé Telesforo Per cui col suo jazz E il suo quintetto Verrà sicuramente A fare una tappa Con noi E quindi Cioè Tutto è cultura La musica Assolutamente Sì Poi lì parliamo Di altissimo livello Insomma Quindi non vi ponete limiti Sicuramente Ma poi soprattutto Saremo ispirati Anche dalla location Perché in base Poi alla città Dove si va Ci inventeremo qualcosa Che poi Infatti L'aspetto L'evento culturale È anche legato Ovviamente A quello che è Allo sfondo Quindi assolutamente Sì Quindi se doveste Fare una tappa A Roma Dove la fareste Dove la vorreste fare Volere Vabbè Si sta sognando E beh La biennale di Venezia Quando si vendono sogni Ma solide realtà Esatto E già la biennale Per me sarebbe stato Un bel sogno Quindi insomma Ancora oggi Ancora lo è Però ci stiamo lavorando Perché ha senso Cioè farci Cioè partire Dall'alto Diciamo Da Rapallo Di nuovo E finire poi Il tour Da quelle parti Sì però io non ci credo Che quando tu Hai ideato Tu e Marta Avete ideato Questo tour Non avete pensato Avuto un'immagine Di un campo di padel Al centro di Roma Assolutamente sì Però Dove l'hai immaginato? Allora Io ce l'ho Intanto io Tu dove l'ho immaginata Facciamo così Togliamolo dalle castagne Tu dove l'ho immaginata Io piazza del popolo Perché la fanzone Degli europei È stata bellissima Però è quella sopra Al pincio Dici tu La fanzone Eh la fanzone Sì no Pure sotto Che facevano Sì sì Quindi proprio Piazza del popolo Sì sopra Vabbè sarebbe Quindi tu giocheresti Giocheresti al pincio Guarda se ci ho azzeccato Quindi vista Vista Prati Vista San Pietro Che non sarebbe eccezionale Esatto Sì A Roma Ne puoi dire 15 Sì sì E sono poche Nel senso In questo senso A me me ne vengono in mente Troppe Sì Per cui una di troppe Va fatta Esatto Sì L'obiettivo sarà Accentrarne una delle tante Sì assolutamente Però questa è il pinto Secondo me è bene Pinch è bello Segnate Però mi raccomando Il pinccio non ci avrete pensato sicuramente Ma secondo me la stagione migliore è la primavera Sì assolutamente Se uno pensa che Non lo so A maggio L'ultima settimana L'ultimo weekend di maggio C'è Piazza di Siena Uno potrebbe continuare Su Piazza di Siena Eh O su quel quadrante Per esempio Per esempio In quel Dico cioè Di location ce ne sono Troppo Chissà se c'è uno spoiler In queste due parole Beh poi Piazza di Siena Pincio è proprio Eh ci arrivi Ci arrivi Piedi Scusate Basta una padellata Abbiamo tralasciato il Colosseo Eh beh no Beh Quello Perché no Perché no Se vogliamo esagerare Esageriamo Non so se avete visto Russell Crow Che a Roma Gli hanno fatto un selfie E poi ha messo su Twitter Nel mio Ecco una fa Sono tornato nel mio vecchio ufficio Giusto Una foto con la famiglia Al Colosseo Geniale Sì Adesso sta No in procinto di finire Il lavoro di restauro Per cui Sì quindi È pronto È pronto È quasi pronto per noi Ah ma Allora il restauro L'hai mandato te L'avete mandato voi Era funzionale Diciamoci Magari No diciamo L'abbiamo Comissionato noi Diciamo che il progetto Lo conosco bene Ah E quindi Abbastanza Progetto Qualche int Ce l'abbiamo Qualche Qualche Indizio Qualche Cosa Da seguire Che seguiremo Sicuramente Ma quindi Rapallo Tappa 0 Da 0 a 1 Quindi a quella Che sarà La prossima tappa Cosa migliorereste Cosa Dove andreste A lavorare Se c'è qualcosa Oppure la tappa 0 È andata già bene Così Buona la prima Beh diciamo che Da fare C'è sempre E lì Forse il limite Marta Correggimi Credo che sia stato Il tempo I 35 giorni Di preparazione Sono oggettivamente pochi Soprattutto sotto Profilo di comunicazione Per questo noi Oggi stiamo lavorando Per lanciare Il programma 2023 Sul mese di febbraio In maniera tale Che Abbiamo poi Tutte le tappe Almeno a 60-70 giorni Che sono Giusto per prepararla Anche localmente Perché poi dopo La cosa Per la promozione Beh soprattutto Poi sono convolte Le realtà locali Le amministrazioni Le scuole Quindi più che poi Quei giorni là Che sono stati 4 No? Sì Quindi più che E 4 giorni Proprio il pre Ma il pre Le rese e mail C'è la comunicazione Anche perché c'è Un torneo Che inizia prima Dell'arrivo nostro E quindi il torneo Va gestito Certo c'è tutto Il torneo Pre-evento Tra i circoli Che deve già Veicolare In qualche modo Un messaggio Poi oggi Parlandosi chiaramente Ci sono città Che sono in grado Di fare un torneo Regionale Non più cittadino E quindi Possiamo Allargare Molto la cosa Ecco per esempio L'evento Un evento a Roma Coinvolgerebbe Un numero Spropositato Di circoli Anche perché Noi oggi Facciamo semifinali E finali E quindi la Roma Dobbiamo delimitarlo Propriamente a qualcosa Dovrebbe partire 5-6 mesi prima Il torneo Prima dell'evento Assolutamente Bisogna Studiarlo Studiarlo bene Pianificarlo Con il giusto anticipo Diciamo che Roma Però Sul padel Già c'è Molti eventi No? Sì E quindi Diciamo Tra l'altro Quelli di caratura Super internazionale Roma Ha anche meno Bisogno di raccontarsi Rispetto ad altre realtà Indubbiamente Quindi noi La cosa Per cui Diciamo Ci approviamo Anche del termine Turismo E anche quello Cioè nel senso Andare a raccontare Rapallo In questo caso Anche in altre città Sempre di Italia Che vai dal Siciliano di Palermo Che non sa O che non l'ha mai vista Che non la conosce poco Non è male Che gli diamo Il prima di andare A fare una vacanza All'estero Va a vedersi Dei paesi italiani E quindi È anche un contributo In quel senso Per questo Il turismo A noi ci piace Entra dentro Questo progetto Anche una scusa Per Assolutamente Piuttosto che andare A dar soldi fuori Portiamoceli prima in casa Quindi Se io Fossi un giocatore Di padel E non lo sono Ma se io lo fossi Potrei usare Il CD Padel Tour Proprio per farmi Un tour Quindi potrei Iscrivermi ai vari tornei Delle varie città Assolutamente sì E andare Andare in giro Assolutamente sì Per la gioia Di tante famiglie Perché le iscrizioni Sono libere Ma ti porteresti Tutta la famiglia Ovviamente I primi tifosi Che fanno Il te riporti Anche perché Adesso Parlandosi proprio L'idea nostra L'idea nostra E poi è quella Di fare La super finale Cioè per cui Chiunque vince Queste tappe E l'idea di Venezia È quella Cioè nel senso Che tutte le tappe La finalistica Si potrebbe fare Di tutti i vincitori Di tutte le tappe Potrebbero finire lì Per cui tu più ne fai Se tu ti iscrivi Già cinque tappe Faccio un esempio A febbraio A quel punto Tu arrivi Che c'è più possibilità Di arrivare a Venezia Capito Capito Impara Molto chiaro Vedrai quanto studiano Inizia a prendere lezioni Che ti mandiamo in giro Per tutta Italia Proprio Dovevo iniziare Un mesetto fa Poi mi hanno fatto la proposta Di andare alle 3 di pomeriggio Cioè no Un mesetto fa Ancora si potrebbe fare Adesso Adesso è un po' più dura Infatti Adesso i cambi Con l'aria condizionata Come minimo Perché non Non si può No però mi piace È vero Perché Cioè porre l'attenzione Su una città come Roma Che non ha bisogno No Se vogliamo Di essere venduta Di ulteriori pubblicità Esatto Anzi forse Statistico Forse avrebbe bisogno Di un po' meno Beh ma non fa o spocchioso Dai Però ecco Diciamo che Bello dare Mettere Accendere un faro Sulle realtà più piccole Che magari Poi L'Italia Diciamo che è stupenda Ma purtroppo È un po' frammentata Tanto Tutto le isole E quindi Hai fatto un esempio Pregnante Di Palermo Di Nella Sicilia Per esempio Ecco La Liguria Non più lontane E quindi è bene Che poi diventano Inizia a farle parlare Inizia a farle conoscere Esatto E quindi secondo me Ha senso Soprattutto per i prossimi anni Questa cognata Fine Della Fragmentazione Secondo me Dei partire Da queste piccole cose Cioè Dalle piccole realtà Dei degli eventi di sport E' una Pregnante Dalle cose che poi Ci uniscono Che sono Il nostro sport E la nostra cultura E il turismo Insomma Il territorio Che seppur diviso A livello formale Poi alla fine Geograficamente C'è Manca solo la Corsica Però Ci hanno tolto Sta Corsica Non solo quella Perché Adesso da Romani Siamo andati Molto oltre Però Diciamo che Geograficamente Da Corsica Però Hai detto Un concetto Che adesso Mi rivendo Me lo spendo subito Questo fatto Che poi alla fine Il nostro tour Unisce l'Italia Sì Mi piace Sì Sotto Sotto l'insena Dello sport Poi Quando Quando c'è da di fare Italia Più o meno Ci riusciamo Sempre a unire Il titolo dell'articolo Unità d'Italia Ci pensa Si tipa del tour Non mi pare Il momento adatto Per uscire Un po' presuntoso Diciamo Adesso non me la sento Perché Visto ieri e oggi Il disastro Che sta succedendo C'è lo sport Il territorio E la cultura Perché Concentriamoci Su chi Poi Questo paese Effettivamente Lo porta Muove Lo promuove Che non lo affossa Chi invece lo vuole Tenere fermo A uno stato Ero andato a vedere Sul nostro sito News.sport Che tra Gli articoli Più letti Rimane Rimane Questo Che Abbiamo scritto Ecco appunto Ormai Svariati Svariati anni fa Quando Quando forse Ancora Questo Questo Dilemma Rimaneva Rispetto Al 2019 Quando è datato Questo Articolo Il Padre L'ha avuto Effettivamente L'abbiamo Detto Un'espansione Terrificante Nel senso positivo Del termine Ma C'è ancora Questa Ignoranza Tra virgolette Intorno a Questo Sport O Solo Curiosità Ormai Perché Questo Articolo Era nato Dal fatto Che Tanti Effettivamente Ancora Si chiedevano Come Si Con Sono Arrivata Oggi In treno E È Stato Bellissimo Per me Perché Tipo I vicini Di Serie Di Posto Loro Chiacchera Noi Devo Arrivare In treno Perché Alle Sette Una Partita Di Padel Cioè Capisci Che Allora Ridici Perfetto Allora Il Padre Entrato Nella Società Certo Perché Quando mai L'avresti Sentito Io In Spiaggia Ho Visto Persone Giocare In Spiaggia Dice Tennis Forse Quello Quello Che una Volta Si Sarebbe Chiamato Banalmente Racchettoni Ma Con La Racchetta Da Adattata Probabilmente Ci staranno Qualcuno Che Ha La Terza Quarta Racchetta Se La Tiene Per Il Divertimento Che Ovviamente Non È Padel Quello Il Racchettoni È Paddle Ormai Penso Che Poca Gente Lo Chiami Paddle Questa Cosa Si Risolta L'articolo Lo Possiamo Archiviare Rimane Il Chi Legge Andiamo Oltre L'Aronimato E Scopriamolo Non Non Esponiamo Così Tanto Bene Devo Dire Una Chiacchierata Interessantissima Abbiamo Scoperto Un Un Evento Veramente Molto Molto Bello Che Sicuramente Riflette Tanto Anche I Valori Sportivi E Culturali Che Nel Nostro Piccolino Cerchiamo Di Portare Avanti Quindi Grazie Grazie Tante Di Avercelo Raccontato Di Averlo Portato Ho Una Piccola Domanda Per Aggiungere Delle Isole Minori Ci Piacerebbe Sono Solo Un Po Di Problemi Logistici Che Dobbiamo Affrontare Portare Spedizione Solo Sul Territorio Nazionale Isole Escluse No Isolette Arrivano No Si può Fare Ma Non è Chiaro Ci sono Dei contesti Che Sono Straordinari E Ci stiamo Lavorando Perché Effettivamente È più Complicato Non C'è Portare Un Campo E Costruire Comunque Un Campo In Piazza Non Ne Abbiamo Parlato Ma Non È Una Cosa Semplicissima Ci Vogliono Tre Giorni Pieni Di Portarlo Quindi Se poi Pensiamo Anche Dover Prendere Un Traghetto Per Portarlo Si Tutto Si Può Fare Ci Stiamo Lavorando Se C'è Un Campo Già Presente Forse Diciamolo Che Le Io Vorrei Curare L'evento Mi Offro Come Ufficio Stampa In Quei Caso Devo Andare Proprio Sul Luogo Devi Montare Anche No Andremo A Fare Un Sopraluogo A Ponza Tra Poco Quindi Guarda E Io Ne Ho Fatti Già Vari E Con Un Occhio Diverso Sopraluogo Sul Mare No Scherzo Sì Comunque Bello No Perché È Vero Che Le Quest'unione Di Loro Perché Forelle Sono Un po' Più Bisfrattate Diciamolo Che Sono Più Complicate Sono Più Complicate Da Raggiungere Però C'è Anche Da Dire Che Quando Poi Ci Arrivi Con Magari Mille Sforzi Come Quello Che Può Rappresentare Prendere Un Traghetto Andare A Ponza Tutti I Weekend Io Non So Come Tu Possa Riuscirci Lei Tutti Weekend Conosco Benissimo E Quindi Che Vorresti Dire Dove Dalla Ponza Esatto Che Mi Capisco Se Ci Sono Stati L'acqua Incredibile I Campi Da Padel Ci Sono Ponza No Ci Sono Due Campi A Tennis Lui Guarda Che Secondo Me Siamo Sulla Stessa Lunghezza Tonda Cioè Che Ci Va Quanto Me Prendete Un Traghetto No Non è Possibile Perché Voi Un Traghetto Già 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 Ce l'avete Però Tu Quando Vai La Prossima Nolta A Ponza Adesso A fine Agosto Purtroppo A fine Agosto Passo Direttamente A fine Agosto Ok Quindi Ricordiamo Ce Lo Segniamo C'è L'importante Martina Procaccini Fine Agosto A Ponza Sopran Quello A Ponza A luglio Agosto Si sa Che No Ma proprio L'ultimo Weekend È tipo San Pietro E Paolo Lui potrà Confermare Anche È tutto Pieno Un disastro Un disastro Non si va Va bene Va bene Il sovraluogo Lo farà In un altro In un altro Momento Vedrò Se troverà Delle Location Per Dei suggerimenti Esatto Esatto Anche se lui Ovviamente Ha volato Un po' Più grande Perché Capri Ovviamente È un po' Più Bella Perché Ci sono Gli spazi Perché Ponza Non Almeno Non sei Sopra In alto Sì Sì Vero Vi auguro Anche Di arrivare A Capri Mettiamo Una banderina In qualsiasi In qualsiasi Posto Allora Per Francesco Marta Io Credo Che ci siamo Raccontati Un po' Tutto Com'era E Noi abbiamo Altri Dieci minuti Un quarto d'ora Che di solito Spendiamo A chiacchierare Di notizie sportive Della Settimana Che la buona Martina Ci riporta Che Esatto Quindi Se volete restare Con noi Altri dieci minuti E chiacchieriamo Di A commentare Insomma Notiziole Di sport Visto che abbiamo Parlato di sport E di cultura Ovviamente Siete i benvenuti Se Avete fretta Perché Avete i vostri affari Io non vi trattengo Abbiamo una sciurma Di figli La sciurma Di figli Giocano a padel L'hanno già Sono obbligati Ovviamente Sono in contratto Se no Non entri a casa Se no Rimanevamo qua Invece Va bene Va bene Allora Rilasciamo la sciurma Sì Beh Grazie Grazie a voi Grazie Grazie a voi Di essere venuti Noi siamo Siamo qua Noi torniamo Con il calendario In mano Calendario alla mano E vi dico Quale tappe Dovete Partecipare Iscrivervi Ok Bene Sarà fatto Io in una delle isole Ah tu Sei già prenotata Dalle isole Come funziona Va bene Va bene Io mi prenoto La montagna Allora Cioè Montagna Al fresco Terraferma Perfetto Perfetto In alta vuota Bellissimo Va bene Va bene Va bene Allora Buone vacanze Buona Programmazione Sarà lunga Sarà lunga Da qua 2023 E Buon padre Buono sport A tutti Veramente Ci si augura tantissimo Grazie ragazzi Ciao Grazie a voi ragazzi Grazie a voi ancora